Buonasera, la mia prima cosa vorrei dire grazie all'audinese, non volevo entrare più in quel discorso di cosa è successo, perché quello che è successo è il mio ex-presidente sa. Ho vissuto alle sette anni e penso che era il momento giusto di cambiare l'area e penso che abbia fatto la scelta giusta. Sono carico, sono qua da due giorni e posso dire che sono un giocatore che parla poco, ma observo tanto e sinto veramente l'espolatoio che è una cosa per noi giocatori sacra, sinto tanta voglia, un'atmosfera positiva che da tanto tempo non sentivo. Il capitolo udinese, cosa è successo l'anno scorso? Quella serie di partite, tutte quelle sconfitte, come la si vive anche umanamente? Non si vive, si soffre. Un giocatore che perde 11 partite di fila, non so cosa dire. Per un giocatore professionista la domenica tu vai in campo per far divertire la gente, questo è che dobbiamo fare già domenica sera. Di là dell'obiettivo che la squadra ha, penso che la cosa più importante è far divertire la gente che va all'estadio. Che impatto hai avuto con Inzaghi? Cosa ti ha detto il mister? Quali sono state magari le parole anche di Divaglio e di Bigon per per convincerti di accettare questa nuova sfida? Penso che la riunione che abbiamo fatto lunedì mattina con Bigon, con Divaglio e con mister, penso che ho parlato con mister 5-10 minuti, penso che il mister è stato chiaro e bastava poco per per mi convincere a venire qua. Perché alla fine quello che è successo a Udini, io ero fuori Rosa, non? Non vorrei più entrare in questo discorso, ma ho scelto io Bologna, prima di tutto. Volevo io venire qua. Sono preso nella macchina lunedì mattina per venire a fare un faccia a faccia con mister, con direttore, perché volevo Bologna. Non è che Bologna era la mia ultima scelta. Ho avuto altre squadre che c'erano delle offerte, ma ho scelto Bologna e sono contento. È sbagliato se diciamo che tu avevi almeno altre due o tre offerte e nel momento in cui il Bologna, con cui in realtà c'erano stati contatti, credo da tempo, però fermi. Nel momento in cui ti ha detto noi ti prenderemmo, tu hai messo Bologna davanti a tutto. È una lettura corretta di come sono andate le cose. Sicuramente sì. E come mai hai scelto Bologna? Cosa ti ha dato di diverso, di più rispetto alle altre proposte che avevi? L'ambizione, no? Una città bella, una società seria, no? Penso che Bologna già era, diciamo così su destino, perché il mio gol più bello che ho fatto nella mia carriera è stato contro Bologna. Io sono qua da sette anni e mio papà è venuto solo una volta in Italia e ha visto Bologna e l'Udinese anno scorso. Penso che è cosa di destino. Io credo molto in questo. Adesso devo segnare un gol così con la mare di Bologna, no? E l'accordo con il Bologna? Che accordo è? Tu arrivi in prestito con un obbligo di riscatto. Quanto tempo pensi di passare qui? Un prestito di un anno. Il mio rappresentante è qua. Con questi discorsi di contratto non voglio entrare. Io adesso voglio pensare solo ad entrare in campo una domenica. Tu sei già pronto per domenica se si dovesse giocare poi la partita? Come stai? Io ho fatto due settimane allenando da solo a Udine, no? Ma ho iniziato la settimana, diciamo così, normale con la squadra. Penso che una partita così, un derby domenica sera, penso che basta poco per essere in forma. Io sono pronto. Ciao Simone. Ciao. Volevo chiederti una cosa, ma sul ruolo col mister, cioè del ruolo, avete già parlato? Sarai il centrale, diciamo, della difesa 3 oppure, visto che tu a Udine hai giocato dappertutto, oppure non ne avete ancora parlato? Sì, abbiamo parlato, ma abbiamo parlato poco. Penso che farò proprio il centrale della difesa 3. Che è un ruolo che hai ricoperto spesso l'altro giorno, ho parlato con Guidolin e mi ha detto che è tanto che non lo vedo, ma sono convinto che se mi vedesse mi saluterebbe volentieri. Diciamo che è stato l'allenatore più importante nella mia carriera in Italia. Con Guidolin abbiamo fatto delle miracole a Udine, sempre con la difesa 3. Lo saluto e ringrazio perché è stata una persona importante per me. Giocavi spesso con Benatia e Domizzi, sono andato a vedere, no? Cioè, giocavi tu a destra, Domizzi a sinistra e Benatia in mezzo? No, io in mezzo, Benatia a destra e io centrale. Ho capito, ma avete fatto un po' di tutte e tre però in realtà. Io sono a disposizione del Mese. Ciao Luca, Quino, Gazzetta. Ti volevo chiedere, tu conosci bene il campionato italiano, sei qua da tantissimo tempo. Cosa te ne pare di questa squadra, di questo Bologna e quali possono essere gli obiettivi? No, un obiettivo di una squadra così deve essere sempre di fare 40 punti. Non sono qua prima di dire questo, ma dobbiamo salvarsi prima. E dopo, come ho detto prima, di fare divertire la gente. Dopo che tu raggiungi i 40 punti la cosa diventa più facile. Penso che sarà un campionato degli ultimi anni quello più difficile, più equilibrato. E in Italia sono... adesso sono tanti campioni, come Cristiano Ronaldo. Sarà un campionato equilibrato, duro. Dove dobbiamo fare di tutto, principalmente in casa, di cercare di fare sempre punti.